Ah so che episodio sei E quando stavo per illudermi che questa serie potesse diventare qualcosa di accettabile Una puntata solo con Sabine Ah che bello una puntata con Sabine Proprio quello che ci voleva, si Stavolta però siccome sta serie fa cagare O almeno a me fa cagare poi se a voi vi piace fate come vi pare Io che vi devo dire Più vi fa vedere quanto non so capace a scrivere Delle stronzate che fanno, che dicono e cazzivare Non so cosa fare, non so Vi piace? Vi piace, basta Stavolta non farò veramente il montaggio E' veramente come se fosse un podcast Perché dai su, perché uno si deve mettere a spreca tempo a fare sta roba Perché? Allora la puntata inizia subito con Ahsoka Che parla con Uyeng dentro la nave mentre stanno andando verso la nuova galassia Ahsoka parla di quello che ha visto Di quell'eco del passato Lei sa che quella stronzetta è passata al nemico spontaneamente E ora inizia a capire che la situazione è un po' preoccupante Buongiorno Ahsoka, buongiorno Ci è voluto solo il fallire come maestro Fallire come maestro un'altra volta Morire, incontrare Anakin e rinascere come Ahsoka la bianca per capirlo Brava, bravissima Uyeng che ha tenuto comunque l'asticella alta per tutta la stagione Quindi deve iniziare a calare per forza Fa notare alla sua padrona che probabilmente Sabine non aveva altra scelta E che magari quel gesto che ha fatto l'ha fatto in maniera egoistica, sì Ma per cercare proprio di salvare la galassia Grazie al contributo di Ezra Come se Ezra fosse il dio dei due mondi, Cristo Dio Fortissimo Cazzo c'avemo Luke Ma che ce ne frega, c'è sta Ezra che è fortissimo Andiamo da Ezra Oltretutto mi devi spiegare perché Ahsoka fa tutta sta roba da sola E non va da Luke Che è il fottuto Jedi più forte di tutti Santi Dio In ogni caso sarebbe anche un'idea interessante Un'ipotesi che avrebbe delle fondamenta Se Sabine non avesse dimostrato di essere una coglione In tutti questi episodi passati Quindi Uyeng, forse pretendi troppo da Sabine, eh Ma andiamo proprio dalla meravigliosa Sabine Che si sveglia con questo make-up perfetto Dentro la cella in cui la tengono prigioniera E porca puttana, io dico no Ma te è morta Ahsoka Hai praticamente mandato in rovina la tua galassia Mandandola incontro ad una guerra contro Tron e il suo esercito Manca una lacrima hai versato Niente, proprio composta Ma poi tra l'altro Ma a te te sembra un modo di recitare questo? Cioè, a te te pare che questa stava a dormire? Con questa posa? Ma... Cazzo li prendono gli attori della Disney Ma... Cioè, il casting lo fanno da bendati Come... Boh, vabbè Che andiamo avanti Marcello comunque arriva e continua a cucinarla a fuoco lento Vai, sì Vieni piano piano verso il lato oscuro Vieni Ma finalmente siamo arrivati in questa nuova galassia Siamo arrivati al pianeta di destinazione Peridia Un pianeta in cui le balene che se teletrasportano vengono a morire Venivano qui a morire Peridia era un cimitero Però Morgan ci dice che qua cavalcavano le balene Quindi vengono a morire oppure le cavalcano O fanno tutte e due Perché una balena dovrebbe venire qua a fare cavalcavano Se comunque è un cimitero Non è la... Se capisce in cazzo Non c'è mai una logica niente dentro sta serie Come non c'è la logica questo anello Perché c'ha un motore là sotto? Ma come... Come si equilibria? Cioè, il mio boh Cioè, addirittura in Clone Wars Quando Yoda andava in quel pianeta misterioso Per farse addestrare A diventare un fantasma delle forze e cazzi vari Addirittura lui c'aveva quell'anello Che era equilibrato con la sua navicella al centro, no? Perché non potevano fare una cosa del genere? Perché? Perché il senso non ci può essere mai Da nessuna parte? Atterrati finalmente su questo pianeta Trovano tre sorelle della notte Questa puzza di Jedi Mi sa che avete sentito male Assicuro che non c'è nessun Jedi qui Certo, a parte sti due Ma se saranno sbattezzati, non lo so Magari quella che sente semplicemente Puzza di sudore Dato che non penso che gli hanno dato la possibilità De lavasse Però ho un dubbio che queste sorelle della notte Se non le rincoglionite ce l'ho, eh Considerando la faccia stupita Che hanno fatto quando Tron ha rivelato Che questo era un Jedi praticamente Diciamo che bastava uno sguardo Guardavi che c'erano delle spade laser E due domande te le poni, no? No, non se le pongono loro In ogni caso Gli lanciano ste tre palle magiche Perché a quanto pare le sorelle della notte Sono proprio appassionate di palle Che la scortano verso la sua nuova cella Grande, Sabine Analizziamo un attimo la scelta incredibile di Sabine, no? Ha voltato le spalle alla sua galassia Praticamente destinandola ad un'altra guerra E questo per quanto mi riguarda Significa dimenticare totalmente il passato Dato che Sabine ha praticamente Fatto estinguere il suo popolo di Mandalore Quindi uno presuppone che un personaggio del genere Con un background così pesante Ponderi tutte le sue decisioni, no? Soprattutto quelle che riguardano Tantissime persone Soprattutto innocenti Sai quanti innocenti moriranno Per le tue scelte di merda, Sabine? Poi sei fidata di questo? Ma parlamose chiaro Il personaggio di Sabine Se fosse stato scritto in maniera competente Avrebbe dovuto avere un peso così enorme Sulle spalle Che se sarebbe suicidata Piuttosto di dargli la mappa a questo Cioè Io non lo so, guarda, veramente Ma poi sai che plot twist sarebbe stato? Sai che forza avresti dato a questa serie Enorme, spaventosa, gigantesca Invece no Continuiamo con le ennesime stronzate Nessuno muore in queste serie Nessuno muore in questi film Non muore più nessuno per la Disney Io non capisco come cazzo fanno a creare l'attenzione Come fanno a farti empatizzare con le scene Se nessuno muore Come fai ad empatizzare? Come fai a pensare che potrebbe esserci un pericolo? Se tutti vivono anche se muoiono Qualcosa di incredibile Oltretutto Osservazione finale Poi andiamo avanti con sta storia Orribile Sabine si è messa in questa situazione In cui si ritrova praticamente In una galassia aliena la sua Ha contro di lei Marcello Che è assolutamente più forte Lei infatti ha ucciso anche Ahsoka Contro Belli Capelli Che ha dimostrato anche lei Di essere più forte Contro Morgan Che è una strega Anche abile in combattimento Come ha già dimostrato E ora non solo sta contro Tre sorelle della notte Che già una l'aveva fregata Anni fa Quando prese per la prima volta La Darksaber Ma si ritrova pure contro Tron E tutto il suo esercito Eh Sabine Ma tu sei veramente il genio dei geni Cazzo Sì Sicuramente riuscirai a ribaltare la situazione Ma non per merito tuo Per merito della Disney Che ti farà vincere Assolutamente Senza un cazzo di motivo valido Bravi così Andiamo avanti Fantastico Finalmente Marcello A sorpresa Ci fa un discorso sensato Che potremmo benissimo Anche adattare A tutti i prodotti Da Disney La caduta dei geni L'ascesa dell'impero E poi si ripete E si ripete E si ripete E si ripete Si ripete Tutto si ripete È esattamente quello che succede E si chiama Spremere la vacca Finchè è grassa Significa non riuscire A pensare a qualcosa Di originale Quindi Ripetizioni E quindi reboot E quindi remake E così via Vai Finchè la gente Non si rompe le palle E tu spenderai 400 milioni Di budget Per fare un film Ma ne guadagnerai A malapiena 100 Good job Good job Vabbè Arriva Tron Con il suo enorme Star Destroyer Grosso quanto la Sicilia I Stormtrooper Sono un po' tutti sfornati E hanno rattoppato Le loro armature Con pezzi Di fortuna E vi giuro Che se non ci fosse stata Sta musichetta A rendere tutto Un pelo più epico Riderai un botto Chi cazzo sei te Serse? Ma dunque Tron è vivo Tron è qui con noi A questo punto Mi sembra anche Superficiale Chiedermi Come cazzo ha fatto A sopravvivere A un viaggio interstellare Con uno star destroyer Con tutti i veri Destrutti Quindi senza Pressionizzazione Ma ormai Cioè ma che Che so chiedere Sto chiedere troppo Sto chiedere Lasciamo perdere Scortano Sabine Proprio davanti a Tron Dove Ezra? Madonna santa eh Sta lasciando il fatto Che stai nelle mani Del nemico Per che cazzo De motivo Dovrebbe di Dov'è L'unica persona Che potrebbe Darte una mano Abbiamo un patto Mi hai promesso Che avrei rivisto Ezra E sta affidando Marcello Chi cazzo Lo conosce Marcello Come fai a Affidarti una persona Che non conosci Tuttavia però A quanto pare E Tron Gli dà I mezzi Per ritrovare Il suo amico Tanto sicuramente Penserà Vabbè questa è una gogliona E poi tra tre giorni Noi se la andiamo Loro ovviamente Non avranno i mezzi Per seguirci E per fortuna Che Tron Era un personaggio Intelligente Per fortuna Penso se non lo era Penso se era uno scemo Totale Insomma Gli fornisce Sta radiolina Che gli indicherà Il punto in cui Hanno trovato L'ultima traccia di Ezra E questo Topo cavallo Muori bene Muori bene Ma va benissimo Muori bene O comunque Ridare le armi Al proprio nemico Dentro la tua base Dopo che le sorelle Della notte Hanno detto questo Questa puzza di Jedi Ed è pericolosa Penso che sto livello Di idiozia È difficile Da trovare In altri film E serie Sabine se ne va Verso l'orizzonte Mentre belli capelli E Marcello La seguono da lontano Con l'ordine Di uccidere Sia lei Che Ezra Appena l'avrà trovato Tron Ezra non lo vedi da una vita Sabine sta qua Ammazza Sabine E lascia Ezra In questo pianeta Non mi sembra L'idea Più difficile Da pensare In ogni caso Sabine Due minuti dopo Essere partita Per il suo viaggio Perde il topo cavallo Viene attaccata Da dei samurai E perde il ricevitore Là che avrebbe dovuto Aiutarla nella ricerca Fantastico Oltretutto c'ha sto poncio Che Da dove è uscito fuori sto poncio Perché gli hanno dato il poncio Ce fa Cazzo è uno spaghetti western È diventato E avevo promesso Di non parlare più Dei combattimenti Perché ci avevo messo Una croce sopra Ma Raga Cioè Qua veramente Non c'è la minima concezione Di come si fa Una coreografia Di un combattimento Cioè ma questo Dove la dà la spadata Ma perché stanno tutti fermi Quelli dietro L'avrebbero potuto Uccidere benissimo 200.000 volte Vabbè Accettiamolo ugualmente Dai Comunque riesce ad ammazzarli Tutti quanti E recupera anche Il topo cavallo Perché Seppur so brutti Gli animali Fanno tenerezza Oddio Quanto siete banali Poi totalmente Un rapporto A cazzo di cane Ma quando mai È nata una connessione Tra sta animale E lei Come mai Lui vuole rimanere A tutti i costi Con lei Immagino che questo Come tanti altri Rimarrà un mistero Di questa serie Comunque scusate Se sto parlando Un casino Scusate se sto Criticando così Tanto su queste cose Ma Uno Non ho idea Di Con chi parlarne Insomma Perché i miei amici Non vedono Questa cagata Due Con la consapevolezza Che io spero Che l'Enrico del futuro Non si metterà A montare sta roba Mi sento un po' Più libero Di argomentare Ok Ma comunque Ci tenevo a sta serie Ci tenevo ad Ahsoka Ci tenevo a Sabine Ci tenevo ad Hera Ma mi hanno completamente Distrutto tutto l'interesse Perché tutti i personaggi Non rappresentano i personaggi Che rappresentavano una volta E non Non c'hanno un'evoluzione C'hanno semplicemente Un'involuzione Sono tutte stupide Non c'ha un senso logico Sta roba Quindi È quello È per quello che è rosico Perché con una semplice accortezza Nella scrittura Si poteva modificare La serie E renderla Buona Non dico Perfetta Ma buona almeno Detto questo Nel loro percorso Trovano Pierino Un signore lumaca Che ha il guscio di pietra Che non è Assolutamente Fatto per fare altro Merchandise No Ha 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 Insomma Pierino E i suoi compagni Sono ovviamente Amici di Ezra E guidano la cogliona Da lui Devo dire Sabine Che hai veramente Un grandissimo culo Per ritrovarti In un pianeta alieno E subito Praticamente Dopo Quanti minuti Famo cinque minuti Ti ritrovi Davanti agli amici Di Ezra Che ti portano Proprio da lui E' fantastico Ma com'hai fatto Vatta a comprare Un gratto E vinci subito Dai Intanto Dall'altra parte Il dinamico 2 Riflette Ma non è che avremo Fatto una cazzata Eh però Io sento Un qualcosa Che mi chiama Sicuro con Tron Gli astrotreni Arriveranno in orario Chiaramente Noi avremo Una grande considerazione E otterremo Molto potere Il nostro obiettivo primario E' Fuggire da questa galassia E poco conta Se Ren e Bridger Rimarranno uccisi O bloccati qui Lo stesso Dicasi per i due Mercenari Grande Quando hai la totale Consapevolezza Di quello che stai a fare Grande Marce Vai Segui Sabine Proprio la nostra Ritardata preferita Incontra In una maniera Assolutamente Anticlimatica Mosè Del principe D'Egitto Ah che emozione Sabine Mi raccomando Trattieni tutta La contentezza Sia mai Mostrazione Emozione Porca miseria No E niente Mosè è diventato Il re De tartarughe Qua Quindi noi stiamo A mettere Le mani Della galassia In mano Al re De tartarughe Bello Rassicurante Cazzo Come sei arrivata qui Non parliamo di questo Non adesso Ora voglio solo Sentirmi felice Di averti trovato No Sabine Te te devi muove Mentecatta Te devi muove Non ce ne vuole un genio Per capire che questi Stanno in pacchetta Tutto E se ne ritornano Nell'altra galassia E te l'hanno pure detto Dovete muove voi due Andate a risolvere La situazione Andate a fare Lavoro vostro Cazzo Finalmente Siamo arrivati Alla fine di questo Ridicolo episodio Le sorelle della notte Captano L'arrivo di Ahsoka E Tron Si prepara Ad accoglierla Nel migliore dei modi Bombarderà Qualsiasi balera Che si avvicinerà Al pianeta Amica Mi ricordavo Che Tron Fosse un cinese Assurdo Però Almeno C'ha un'idea Sensata Finalmente E che vi devo dire Si conclude così Questo magnifico episodio Ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti